Ma tu stai a piedi, sono la nombentana. Sono la nombentana. Ma che è quella che porta? A mare? Hai l'idea di ossa? Sì. Ma che mi dici? Hai l'idea di un pino? Mi ricorderò sempre, andiamo a sciare con un gruppo di anni in l'ospedale. Il nostro cuore, andiamo a sciare con un gruppo di anni in l'ospedale.